La cultura eleva e porta alla pace, solo a patto però che non sia monopolio esclusivo, ma bene condiviso anche in un'ottica di network. Ne è convinto Don Martino Signoretto, vicario episcopale per la cultura della Diocesi di Verona, che è stato tra i relatori del focus sull'arte, la cultura e le tradizioni organizzato da Verona Network, lo scorso venerdì 17 giugno presso la chiesa di Santa Maria della Giustizia. Tra i relatori del convegno che si è interrogato sulle potenzialità della filiera creativa nel contesto scaligero, anche Gabriele Ren, dirigente del settore cultura del Comune di Verona, Stefano Pacchera, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Verona e tra l'altro artefice della nascita dell'Associazione Verona Creativa, ma anche accompagnato da Digo Zardini, parlamentare componente della Commissione Ambiente e Territorio e infine da Lorenzo Bassotto, regista teatrale e coorganizzatore di Bridge Film Festival, una rassegna che propone docu-fiction di qualità in alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra città. La città è ricca di arte moderna, arte antica e oggi è il momento anche di darle una svolta interessante su tutto l'aspetto della contemporaneità. Grazie a tutti.